Come fare un buon sonno e crunch con la tua gitarra? Prima, molto importante, lavare le mani. Poi prendere la tua bella gitarra, usare il canale di crunch dell'amplificatore, non esperto eh? Ma non esagerare con il giro, mamma mia! Quindi se spieghi con l'alto è clean! Eeeh le crunchy!